Benvenuti nel nostro canale. Oggi vi sveliamo le anticipazioni della promessa, dal 21 al 25 giugno. Ximena non va al Garden Party, rimane alla promessa per mettere in atto il suo inganno. Anche Manuel resta al palazzo. Lui e Hana avranno momenti di passione prima di essere quasi scoperti da Ximena. Infine, Margarita si vendica con i marchesi, mettendoli in ridicolo davanti al re e a tutti gli ospiti. Non perdetevi questi e altri incredibili sviluppi. Iscrivetevi al nostro canale per non perdere nessun aggiornamento e lasciate un like se siete appassionati della promessa. Cominciamo. Ximena è nella sua camera da letto quando arriva Teresa con un pacco per lei, proveniente dalla casa dei suoi genitori. Aprendolo, scopre che contiene una boccetta di sangue. Senza pensarci troppo, usa un panno per assorbire un po' di sangue, lo ripone nel cassetto e scende a fare colazione. Maria Fernandez parla con Ana, che le racconta della sua conversazione con Abel. Le dice che ci sono cose intime che non può condividere e Maria, scherzando, risponde che sono proprio quelle le cose che vorrebbe sapere. Maria poi confessa alla sua amica di essere molto nervosa per l'imminente operazione di Salvador. Vorrebbe accompagnarlo, ma teme di non ottenere il permesso. Pia è molto stressata dal lavoro e dal bambino. In quel momento entra Petra e le dice che deve salire subito nella zona nobile perché Margarita la reclama. Pia chiama una cameriera, affinché resti condighito. La cameriera è Raquel. Avete presente una di quelle cameriere che non parlano mai? Finalmente, la povera ragazza ha la sua prima battuta nella serie. Vada tranquilla, donna Pia. Al piano superiore, mentre Pia sta parlando con Margarita, irrompe donna Cruz, dicendole che la stava aspettando e che è lei la sua priorità. Aggiunge che deve preparare le valigie e, al ritorno da Madrid, discuteranno seriamente di questo argomento. Nell'hangar, Ana parla con Manuel. Sente il bisogno di essere sincera e spiegargli il bacio tra lei e Abel, assicurandogli che è attratta dal medico. Manuel le dice che non è sorpreso e lei gli chiede se gli ha dato fastidio. Educatamente, Manuel risponde che non potrebbe essere infastidito, né ha il diritto di esserlo. Ana gli chiede se è geloso e Manuel risponde di sì, un po' lo è. Ximena è assorta nei pensieri riguardo alle istruzioni della madre per portare a termine il suo piano. Suo marito le parla, ma lei non lo ascolta. Manuel le chiede se va tutto bene e lei risponde che ha pensato di non partecipare alla festa di Palazzo della Granja. Manuel, preoccupato, decide di chiamare Abel per farla visitare, non capendo questi repentini cambiamenti di umore. Lei afferma che non è necessario, ma alla fine accetta. Durante la visita, Abel le controlla il polso e le dice che è troppo normale per essere incinta. Poi le fa alcune domande sui sintomi avuti negli ultimi giorni. Manuel chiede ad Abel come sta sua moglie. Abel risponde che temperatura e polso sono normali e suggerisce che, se lei non vuole fare quel lungo viaggio, è meglio che non lo faccia. Manuel allora dice a Ximena che neanche lui andrà alla festa. Lei insiste che lui partecipi, ma sorprendentemente Abel interviene, dicendo che Ximena ha ragione e che dovrebbe andare alla festa del re Alfonso XIII perché lo stanno aspettando. Margarita parla con Cruz e la rimprovera di averle rubato il modello di vestito per il Garden Party. Cruz le risponde che, poiché è lei a pagare il sarto, può scegliere quello che vuole. Margarita allora le dice che spera che si goda la festa, perché sarà l'ultima a cui parteciperà e che si occuperà personalmente di questo. Nel frattempo, Donna Pia chiede nuovamente a Teresa chi le ha dato l'indizio sul convento di Villalquino. La cameriera mente, dicendo che ha chiesto a un'amica. In cucina, Simona insegna a Don Carlos come fare uno stufato. Approfittando del momento, Don Carlos le confessa che vuole sposare Candela, ma che se lo farà, Candela dovrà andare a vivere con lui e lasciare la promessa. Simona risponde che non conosce la storia di Carlos, ma conosce quella di Candela e crede che meriti di essere felice. Aggiunge che non è lei a dover opporsi alla decisione di Candela. Hannah sospetta che Teresa stia nascondendo qualcosa riguardo all'informazione sul bambino di Pia. Teresa nega, perché non vuole coinvolgere Feliciano. Manuel avverte i suoi genitori che alla fine sua moglie non andrà alla festa del re. Questa notizia non entusiasma Donna Cruz, che critica Jimena e il medico per aver sostenuto la decisione della nuora. La signorina Catalina parla con Maria Fernandez, che chiede il permesso di accompagnare Salvador a Cordoba per l'operazione all'occhio. Catalina le dice che, poiché sarà dopo il viaggio a Madrid per la festa del re, non ci sarà alcun problema. Donna Cruz va nella stanza di Jimena per rimproverarla per non voler andare alla festa. Le dice che, se non va, sarà un affronto non solo per il duca di Carvajalici Fuentes, ma anche per suo marito Manuel. Poi le dice di non campare scuse sui suoi malesseri perché anche lei è stata imbarazzata e non ha avuto così tanti problemi. Più tardi, la sera, Donna Pia torna nel suo ufficio e trova ancora la cameriera Raquel con il bambino. La ringrazia per essersi presa cura di lui durante tutto il giorno e rimane da sola con suo figlio. In quel momento arriva Romulo e le chiede di non utilizzare la signorina Raquel tutto il giorno per prendersi cura del suo bambino. Manuel e sua sorella Catalina stanno prendendo un drink insieme. Parlano di Jimena e della festa. Durante la conversazione discutono di Blanca Palomar, un'amica di Catalina, e Manuel decide di parlare con lei a Madrid e accompagnarla all'evento. Jimena ascolta tutto da dietro la porta. Nella capanna di Ramona arriva Curro, molto agitato e con uno sguardo folle. Ramona gli chiede di calmarsi, ma lui diventa così aggressivo da afferrarle il braccio, facendola piangere. Ramona è spaventata, ma in quel preciso momento entra Ana e ferma suo fratello. Curro scappa via correndo e Ana si scusa con Ramona, che le dice che non c'è nulla da perdonare, perché per lei sarà sempre il suo marchitos. Jimena dice a suo marito che ha deciso di andare a Madrid. Dopo aver sentito che Manuel potrebbe vedere Blanca Palomar a Madrid, cambia drasticamente idea. Tuttavia, la mossa non va a buon fine, perché ora è Manuel che le dice che non andranno né lui né lei. Teresa racconta a Maria Fernandez che Jimena alla fine non andrà a Madrid e quindi rimarrà anche lei alla promessa. Poi arriva Feliciano, triste perché Teresa non viaggerà, e dice che si immaginava di passeggiare per Madrid tenendola per mano. Alla fine, la coppia si fonde in un romantico bacio. I marchesi sono già pronti davanti al palazzo per partire, e arriva Manuel, che non si è vestito per il viaggio, annunciando che resterà al palazzo per stare vicino a sua moglie che non si sente bene. Cruz si infuria, e gli ordina di cambiarsi immediatamente e partire con loro, ma Manuel fa di testa sua e rimane alla promessa. Ora che tutti sono partiti, tranne Manuel e Jimena, Romulo chiede a coloro che sono rimasti di pulire a fondo il palazzo in vista dell'arrivo di un derattizzatore. Quindi, invece di godere di qualche giorno di riposo, si ritrovano a lavorare più di prima. Due giorni dopo la partenza dei marchesi, Jimena deve portare a termine il suo piano, ma con il marito presente diventa complicato. C'è stato un momento in cui Manuel quasi ha trovato la bottiglia di sangue di Jimena, ma proprio in quel momento Abel è entrato nella stanza, distraendolo. Alla festa del re, la tensione tra Margarita e Cruz continua. La marchesa ne approfitta per attaccare anche Catalina e Alonso. Il marchese le dice che non è necessario comportarsi così con la loro figlia, dato che è un giorno per divertirsi. Improvvisamente, alcuni nobili si avvicinano, desiderosi di conoscere Martina e i suoi genitori. Donna Cruz cerca di presentarsi, ma viene completamente ignorata. La marchesa si altera sempre di più perché nessuno le presta attenzione. All'improvviso, il re Alfonso XIII fa la sua comparsa alla festa e si avvicina a loro per salutare. Donna Cruz si precipita verso di lui, ma il re le dice che non stava parlando con lei. Don Antonio presenta la sua fidanzata Martina e i suoi genitori al re, il quale, per lasciarli andare a ballare, dice di prendere un drink perché vuole conoscere coloro ai quali cederà il marchesato più grande di Spagna. Cruz ascolta tutto e si infuria. Martina e Catalina hanno una conversazione in cui entrambe si mostrano a disagio alla festa. Il capitano Lorenzo racconta alla marchesa che tutti li stanno evitando perché si è diffusa la voce che non dovrebbero essere lì e che hanno quasi costretto Don Antonio a invitarli. Nel frattempo, al palazzo, Pia parlando con Teresa scopre che è stato Feliciano a dare l'informazione sul bambino. Ana sta mettendo a letto Ximena quando Manuel entra nella stanza e dice alla domestica che avrebbe voluto andare alla festa con lei, mentre sua moglie, apparentemente addormentata, è davanti a loro. Più tardi, nella lavanderia, Manuel arriva con un vestito di Leonor e chiede a Ana di indossarlo e di incontrarlo nell'hangar in un'ora, perché anche loro meritano un ballo e un momento indimenticabile. Nell'hangar, Manuel, nervoso, aspetta l'arrivo di Hana. Quando lei arriva indossando il vestito di Leonor è molto bella. Manuel le serve una coppa di champagne e chiude la porta dell'hangar con un lucchetto. Una volta dentro, iniziano a fantasticare. Manuel dice che è di nuovo single e Hana risponde che è figlia di un'arciduca. Manuel accende la musica e iniziano a ballare. Mentre ballano, continuano con le loro fantasie, fingendo di essere nobili, finché non iniziano a baciarsi appassionatamente. Nel frattempo, alla festa del re, Martina si avvicina a Curro, che è seduto da solo su delle scale. Gli chiede di ballare con lei e la coppia inizia a ballare in un angolo appartato. Entrambi sono visibilmente tristi. Improvvisamente, Martina si allontana da lui e inizia a piangere disperatamente, confidandogli che sente il cuore uscire dal petto. Gli recita anche le parole che lui le aveva detto quando era sdraiata a letto, ubriaca, e si supponeva che non lo stesse ascoltando. Martina ora gli sussurra quelle stesse parole all'orecchio, assicurandogli che questa volta è completamente cosciente e che lo ama con tutta l'anima. Infine, nell'hangar, mentre Manuel e Hana si baciano appassionatamente, arriva Ximena che, trovando la porta chiusa con il lucchetto, inizia a bussare e a chiamare suo marito Manuel. Manuel non sa cosa fare e chiede a Hana di nascondersi e non dire nulla. Si toglie il frac, copre lo champagne con una coperta e si mette la tuta da lavoro, poi va ad aprire a Ximena. Dopo aver aperto la porta, chiede alla moglie come si sente. Ximena, agitata, guarda dentro per vedere cosa sta succedendo. Manuel le dice che sta festeggiando da solo nell'hangar, ma non la lascia entrare dicendo che potrebbe sporcarsi la vestaglia e le propone di andare a vestirsi per fare una passeggiata. Anche se a Ximena la passeggiata notturna sembra una richiesta strana, accetta la proposta di suo marito. Nel frattempo, Hana è nascosta e si sente in forte imbarazzo, quasi sul punto di piangere. Quando Ximena e Manuel se ne vanno insieme, Hana esce dal suo nascondiglio. La mattina successiva arriva una carrozza al palazzo proveniente dalla festa del re. I marchesi arrivano con volti scuri e vengono accolti con tutti gli onori da Romulo e dal resto del personale. Il maggiordomo si interessa alla festa e Catalina gli descrive i giardini del palazzo. Curro arriva con un'espressione scontenta e tornano anche Margarita e Fernando con la loro figlia Martina. Il maggiordomo commenta che pensava si sarebbero fermati a Madrid e Margarita risponde che sono tornati perché hanno lasciato molte cose alla promessa. Donna Cruz, profondamente abbattuta per quanto accaduto alla festa, si ritira a riposare mentre i suoi cognati se la ridono. Nel frattempo, nella zona di servizio, Lope chiede a Mauro del ritorno dei signori e tutti sono sorpresi dal loro atteggiamento cupo. Mauro dice che sembravano tornare da un funerale più che da una festa, tranne Fernando e Margarita, che erano molto contenti. Il cuoco chiede cosa hanno fatto tutti nel loro giorno libero e Mauro, con sarcasmo, dice che tra Maria e Salvador non è successo nulla. Il medico Abel chiede a Salvador come è andato il viaggio. Salvador sembra molto contento del suo soggiorno a Madrid. Abel gli comunica che l'operazione per il suo occhio è fissata tra tre giorni, quindi dovranno partire per Cordoba il giorno seguente. La notizia spaventa Salvador, ma il medico cerca di tranquillizzarlo, dicendo che il suo amico è un ottimo medico e che presto sarà di ritorno alla promessa completamente guarito. In quel momento arriva il maggiordomo Romulo e Abel gli dice che dovranno assentarsi per circa una settimana. Romulo non ha obiezioni e gli dice di prendersi il tempo necessario. Maria Fernandez parla con Ana nella sua stanza e Ana le racconta che Madrid è molto frenetica. Le chiede come sono andate le cose alla promessa e Ana risponde che tutto è andato bene, senza menzionare il suo momento romantico con Manuel. Le confida però di essere preoccupata per Curro, che ha avuto una reazione violenta con Ramona. Nel frattempo, la marchesa nel suo appartamento racconta a Petra l'umiliazione subita alla festa del re Alfonso XIII. Petra è molto dispiaciuta per la sua padrona. Cruz le dice che è stata sua cognata a diffondere il rumor alla festa, causando l'ostracismo nei loro confronti. Martina arriva nella stanza di Cruz per vedere come sta sua zia e Cruz chiede a Petra di lasciarle sole. La marchesa ne approfitta per chiedere nuovamente a sua nipote di annullare il matrimonio, dicendo che i suoi genitori la stanno mandando al macello. Il marchese sta esaminando la corrispondenza quando sua figlia Catalina arriva e gli chiede il permesso di far accompagnare Maria Fernandez a Salvador per l'operazione a Cordoba. Catalina sa che donna Cruz le direbbe di no, quindi decide di chiedere direttamente a suo padre Alonso. Dopo aver insistito, il marchese acconsente e Catalina lo abbraccia, chiedendogli di non far sapere nulla alla sua matrigna. Nel frattempo, Teresa, mentre sistema i cassetti della moglie di Manuel, trova il panno con il sangue che Scimena aveva lasciato. In quel momento entra Ximena e la vede con il panno in mano. Teresa le dice che alcune donne incinte possono avere delle perdite, ma che sarebbe opportuno chiamare subito il medico. Ximena le chiede di non dire nulla a nessuno, specialmente al dottore. Al palazzo arriva la duchessa dello Sinfantes, donna Mercedes, dicendo che è venuta a visitarli perché stava passando in zona. Si siedono a prendere un caffè. Cruz, Margarita, Ximena e donna Mercedes e parlano della festa del re. Tra madre e figlia ci sono sguardi complici. Sembra che Ximena stia dicendo con lo sguardo che non è riuscita a portare a termine il suo piano. Nell'hangar, Manuel incontra Ana che sta pulendo e le dice che dovranno fare più attenzione la prossima volta, per non essere scoperti. Lei sembra non aver apprezzato quello che è successo, dicendo che non vuole nascondersi come una delinquente e che non ha fatto nulla di male, mentre lui sì, essendo sposato. Manuel replica che non può offrirle nulla, ma non riesce a dimenticarla. Ana gli risponde che non possono continuare così e lui non sa come dimenticare la persona che occupa il suo cuore. La domestica ammette che quello che è successo è stato magico, ma chiede a Manuel di tornare con i piedi per terra, dicendogli che il loro amore è impossibile. Manuel risponde che proprio per questo fa così male. Infine, la signorina Catalina comunica al maggiordomo e alla governante che Maria Fernandes accompagnerà Salvador nel viaggio a Cordoba. Quando Maria e Salvador entrano nell'ufficio, Catalina dà loro la notizia. Maria è molto felice e dice a Salvador che tornerà a essere quello di una volta. Quando restano sole, donna Mercedes e sua figlia discutono. La duchessa rimprovera Ximena di non essere riuscita a portare a termine il suo piano. Ximena spiega che non ha potuto farlo, perché Manuel è rimasto al palazzo. La duchessa de los Infantes è molto arrabbiata perché hanno perso un'ottima occasione. Inoltre avverte sua figlia che, se suo marito scopre l'inganno, finirà per perderlo. Pia è nel suo ufficio quando improvvisamente entra Feliciano per aiutarla con il bambino. La agarre gli proibisce di avvicinarsi al bambino, dicendogli che lo vuole lontano da suo figlio. La situazione diventa spiacevole per Feliciano, che si trova nuovamente messo in discussione davanti a tutti. In quel momento arriva Petra e chiede perché la governante stia parlando in quel modo a suo fratello. Pia evita di lanciare accuse, ma chiama Rachel per prendersi cura di Dieghito. Petra però le dice che non può usare le domestiche, per curare suo figlio. Una volta usciti dall'ufficio, Feliciano confessa a Petra di essere stato lui a raccontare a Teresa del bambino rapito. Petra si arrabbia moltissimo e gli dice che Teresa si è approfittata di lui. Gli chiede di negare tutto ora, perché è la cosa più importante. Curro e Martina escono per una cavalcata in campagna. Sono molto felici di poter trascorrere del tempo insieme. Martina racconta che il giorno prima ha parlato con sua zia Cruz, la quale le ha detto che deve annullare il matrimonio. Tuttavia, Martina sa di dover accettare il suo destino e sposare un uomo che non ama, senza poter fare nulla al riguardo. Curro le risponde che invece può fare qualcosa. Passare il maggior tempo possibile insieme fino a quel momento, senza pensare a cosa accadrà. Le chiede di rendere i giorni che restano magici e meravigliosi, in modo da creare ricordi indelebili che li accompagneranno per tutta la vita. La coppia suggella il tutto con un carpe diem e un romantico bacio. Nel frattempo, al palazzo arriva il maestro Don Carlos e incontra Romulo. Parlano di riprendere le lezioni, sospese a causa della scomparsa del figlio di Pia. All'improvviso arriva Candela e si rivolge a Don Carlos con confidenza. Romulo si accorge subito che tra i due c'è qualcosa di più di una semplice amicizia e se ne va, lasciandoli soli. È allora che il maestro si inginocchia e chiede a Candela di sposarlo. Ancora una volta, l'aiutante di cucina lo lascia lì e scappa via. Margarita e Fernando sono entusiasti, mentre raccontano aneddoti della festa. Nel frattempo, Alonso e Cruz leggono il giornale e sono molto seri. Margarita dice che devono preparare al più presto la richiesta di matrimonio. I marchesi le chiedono quando intendono partire per farlo e Margarita risponde che hanno concordato con don Antonio de Carvajalici Fuentes di fare la richiesta lì, alla promessa. I marchesi rimangono esterrefatti. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete «Voglio il seguito» nei commenti e, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie.